L'Evangelo secondo Marco Principio dell'Evangelo di Gesù Cristo, figliuolo di Dio Secondo che gli è scritto nel profeta Esaia, Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero a prepararti la via. E' una voce di uno che grida nel deserto, Preparate la via del Signore, addirizzate i suoi sentieri. Apparve Giovanni il Battista nel deserto, Predicando un battesimo di ravvedimento per la remissione dei peccati. E tutto il paese della Giudea e tutti quei di Gerusalemme Accorrevano a lui, ed erano da lui battezzati nel fiume Giordano Confessando i loro peccati. Ora Giovanni era vestito di pel di cammello Con una cintura di cuoio intorno ai fianchi E si nutriva di locuste e di miele selvatico. E predicava dicendo, Dopo di me viene colui che è più forte di me, Al quale io non sono degno di chinarmi A sciogliere il legaccio dei calzari. Io vi ho battezzati con acqua, Ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo. E avvenne in quei giorni Che Gesù venne da Nazareth di Galilea E fu battezzato da Giovanni nel Giordano. E ad un tratto, come egli saliva fuori dell'acqua, Vi difendersi i cieli, E lo Spirito scendere su di lui in somiglianza di Colomba. E una voce venne dai cieli, Tu sei il mio diletto figliuolo, In te mi sono compiaciuto. E subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto, E nel deserto rimase per quaranta giorni Tentato da Satana. E stava tra le fiere, E gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea Predicando l'Evangelo di Dio e dicendo, Il tempo è compiuto, E il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Or passando lungo il mare della Galilea, Egli vide Simone e Andrea, Il fratello di Simone, Che gettavano la rete in mare Perché erano pescatori. E Gesù disse loro, Seguitemi, E io farò di voi dei pescatori di uomini. Ed essi lasciate subito le reti, Lo seguirono. Poi spintosi un po' più oltre, Vide Giacomo di Zebedeo E Giovanni suo fratello, Che anch'essi in barca rassettavano le reti. E subito li chiamò, Ed essi, Lasciato Zebedeo loro padre Nella barca con gli operai, Se ne andarono dietro a lui. E vennero in Capernaum, E subito il sabato, Gesù entrato nella sinagoga, Insegnava. E la gente stupiva della sua dottrina, Perché egli li ammaestrava Come avente autorità, E non come gli scrivi. In quel mentre si trovava nella loro sinagoga, Un uomo posseduto da uno spirito immondo, Il quale prese a gridare, Che v'è fra noi e te, O Gesù Nazareno? Sei tu venuto per perderci, Io so chi tu sei, Il Santo di Dio. E Gesù lo sgridò dicendo, Ammutolisci ed esci da costui. E lo spirito immondo, Straziatolo, E gridando forte, Usci da lui. E tutti sbigottirono, Talche si domandavano fra loro, Che cos'è mai questo? È una dottrina nuova. Egli comanda con autorità Perfino agli spiriti immondi, Ed essi li ubbidiscano. E la sua fama, Si divulgò subito per ogni dove, In tutta la circostante contrada, Della Galilea. Ed appena usciti dalla sinagoga, Vennero con Giacomo e Giovanni In casa di Simone e di Andrea. Ora la suocera di Simone Era a letto con la febbre, Ed essi subito gliene parlarono. Ed egli, accostatosi, La prese per la mano e la fece levare, E la febbre la lasciò ed E la si mise a servirli. Poi, fattosi sera, Quando il sole fu tramontato, Gli menarono tutti i malati E gli indemoniati. E tutta la città era radunata all'uscio. Ed egli neguari molti che soffrivano Di diverse malattie, E cacciò molti demoni. E non permetteva ai demoni di parlare, Poiché sapevano chi egli era. Poi, la mattina, essendo ancora molto buio, Gesù, levatosi, uscì E se ne andò in un luogo deserto E qui vi pregava. Simone e quelli che erano con lui Gli tennero dietro E trovatolo, li dissero Tutti ti cercano. Ed egli disse loro Andiamo altrove, Per i villaggi vicini, Onde io predichi anche là, Poiché è per questo che io sono uscito. E andò per tutta la Galilea Predicandone le loro sinagoge E cacciando i demoni. E un lebroso venne a lui E buttandosi in ginocchio Lo pregò dicendo Se tu vuoi, tu puoi mondarmi. E Gesù, mosso a pietà, Stese la mano, lo toccò e gli disse Lo voglio, sii mondato. E subito la lebra sparì da lui E fu mondato. E Gesù, avendogli fatte Severe ammunizioni, Lo mandò subito via E gli disse Guardati dal farne parola ad alcuno Ma va, mostrati al sacerdote Ed offri per la tua purificazione Quello che Mosè ha prescritto. E questo serva loro di testimonianza. Ma colui, appena partito, Si dette a proclamare e a divulgare il fatto Di modo che Gesù non poteva più entrare Palesemente in città Ma se ne stava fuori in luoghi deserti E da ogni parte la gente accorreva a lui Capitolo 2 E dopo alcuni giorni Egli entrò di nuovo in Capernaum E si seppe che era in casa E si radunò tanta gente Che neppure lo spazio dinnanzi alla porta La poteva contenere Ed egli annunziava loro la parola E vennero a lui alcuni Che menavano un paralitico portato da quattro E non potendolo far giungere fino a lui A motivo della calca Scoprirono il tetto dalla parte dove era Gesù E fattavi un'apertura Calarono il lettuccio sul quale il paralitico giaceva E Gesù, veduta la loro fede Disse al paralitico Figliuolo, i tuoi peccati ti sono rimessi Ora, alcuni degli scribi Erano qui visseduti E così ragionavano in cuore loro Perché parla costui in questa maniera? Egli bestemmia Chi può rimettere i peccati Se non uno solo, cioè Dio? E Gesù, avendo subito conosciuto Nel suo spirito Che ragionavano così dentro di sé Disse loro Perché fate voi codesti ragionamenti Nei vostri cuori? Che è più agevole? Dire al paralitico I tuoi peccati ti sono rimessi? Oppure dirgli Levati Prendi il tuo lettuccio e cammina Ora Affinché sappiate Che il figliuolo dell'uomo Appode sta in terra di rimettere i peccati Io te lo dico Disse al paralitico Levati Prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua E colui s'alzò E subito preso il suo lettuccio Se ne andò via in presenza di tutti Tal che tutti stupivano E glorificavano il Dio Dicendo Una cosa così Non la vedemmo mai E Gesù uscì di nuovo verso il mare Con i suoi discepoli Perché ve ne erano molti E lo seguivano E gli scribi D'infra i farisei Vedutolo mangiare Coi pubblicani e coi peccatori Dicevano ai suoi discepoli Come mai mangia e beve Con i pubblicani e i peccatori? E Gesù Udito ciò Disse loro Non sono i sani Che hanno bisogno del medico Ma i malati Io non sono venuto a chiamare Dei giusti Ma dei peccatori Ora i discepoli di Giovanni E i farisei Solevano digiunare E vennero a Gesù E gli dissero Perché i discepoli di Giovanni E i discepoli dei farisei Digiunano E i discepoli tuoi Non digiunano E Gesù disse loro Possono gli amici dello sposo Digiunare Mentre lo sposo è con loro? Finché hanno con sé lo sposo Non possono digiunare Ma verranno i giorni Che lo sposo sarà loro tolto Ed allora in quei giorni Digiuneranno Nessuno cuce un pezzo di stoffa nuova Sopra un vestito vecchio Altrimenti La toppa nuova Porta via del vecchio E lo strappo si fa peggiore E nessuno mette Del vino nuovo In otri vecchi Altrimenti Il vino fa scoppiare gli otri E il vino si perde insieme Con gli otri Ma il vino nuovo Va messo In otri nuovi Ora avvenne che In un giorno di sabato Egli passava per i seminati E i suoi discepoli Cammin facendo Si misero a svellere Delle spighe E i farisei gli dissero Vedi Perché fanno di sabato Quello che non è lecito Ed egli disse loro Non avete voi Mai letto Quello che fece Davide Quando fu nel bisogno Ed ebbe fame Egli E coloro che erano con lui Come egli Sotto il sommo Sacerdote Abiatar Entrò nella casa di Dio E mangiò i pani Di presentazione Che a nessuno E' lecito mangiare Se non ai sacerdoti E ne diede anche A coloro che erano con lui Poi disse loro Il sabato è stato fatto Per l'uomo E non l'uomo Per il sabato Perciò Il figliuolo dell'uomo E' signore Anche del sabato Capitolo 3 Poi entrò di nuovo In una sinagoga E qui vi era un uomo Che aveva la mano secca E lo osservavano Per vedere Se lo guarirebbe In giorno di sabato Per poterlo accusare Ed egli disse All'uomo Che aveva la mano secca Levati là nel mezzo Poi disse loro Egli lecito In giorno di sabato Di fare del bene O di fare del male Di salvare una persona O di ucciderla Ma quelli Tacevano Allora Gesù Guardatoli Tutti intorno Con indignazione Contristato Per l'indurimento Del cuore loro Disse all'uomo Tendi la mano Egli la stese E la sua mano Tornò sana E i farisei Usciti Tennero subito Consiglio Con gli erodiani Contro di lui Con lo scopo Di farlo morire Poi Gesù Coi suoi discepoli Si ritirò Verso il mare E dalla Galilea Grande moltitudine Lo seguitò E dalla Giudea E da Gerusalemme E dalla Idumea E da oltre il Giordano E dagli intorni Di Tiro E di Sidone Una grande folla Udendo Quante cose Egli faceva Venne a lui Ed egli disse Ai suoi discepoli Che gli tenessero Sempre pronta Una barchetta A motivo Della calca Che talora Non lo affollasse Perché Egli ne aveva Guariti molti Cosicché Tutti quelli Che avevano Qualche flagello Li si precipitavano Addosso Per toccarlo E gli spiriti Immondi Quando lo vedevano Si gettavano Davanti a lui E gridavano Tu sei Il figliol di Dio Ed egli Li sgridava Forte Affinché Non facessero Conoscere Chi egli era Poi Gesù Salì sul monte E chiamò a sé Quelli Che gli stesso Volle Ed essi Andarono A lui E ne costituì Dodici Per tenerli Con sé E per mandarli A predicare Con la podestà Di cacciare I demoni Costituì dunque I dodici Cioè Simone Al quale mise Nome di Pietro E Giacomo Di Zebedeo E Giovanni Fratello Di Giacomo Ai quali Pose nome Buanerges Che vuol dire Figliuoli del Tuono E Andrea E Filippo E Bartolomeo E Matteo E Toma E Giacomo D'Alfeo E Taddeo E Simone Il Cananeo E Giuda Iscariot Quello che poi Lo tradì Poi entrò In una casa E la moltitudine Si adunò Di nuovo Tal che Egli E i suoi Non potevano Neppure Prendere cibo Ora I suoi parenti Udito ciò Vennero Per impadronirsi Di lui Perché dicevano E fuori di sé E gli scrivi Che erano discesi Da Gerusalemme Dicevano Egli A Belzebub Ed è per l'aiuto Del principe De demoni Che gli caccia I demoni Ma egli Chiamatile a sé Diceva loro In parabole Come può Satana Cacciare Satana E se un regno È diviso In parti Contrarie Quel regno Non può Durare E se una casa È divisa In parti Contrarie Quella casa Non potrà Reggere E se Satana Insorge Contro se stesso Ed è diviso Non può Reggere Ma deve Finire Ed anzi Nessuno Può entrare Nella casa Dell'uomo Forte E rapirgli Le sue Masserizie Se prima Non abbia Legato L'uomo Forte Allora Soltanto Gli frederà La casa In verità Io vi dico Ai figlioli Degli uomini Saranno rimessi Tutti i peccati E qualunque Bestemmia Avranno Proferita Ma chiunque Avrà bestemmiato Contro lo Spirito Santo Non ha remissione In eterno Ma è reo D'un peccato Eterno Ora Egli parlava Così Perché dicevano Ha uno Spirito Immondo E giunsero Sua madre Ed i suoi Fratelli E fermatesi Fuori Lo mandarono A chiamare Una moltitudine Li stava seduta Attorno Quando li fu Detto Ecco tua madre I tuoi fratelli E le tue sorelle Là fuori Che ti cercano Ed egli rispose Loro Chi è mia madre E chi sono I miei fratelli E guardati In giro Coloro Che li sedevano Dintorno Disse Ecco Mia madre E i miei fratelli Chiunque Avrà fatta La volontà Di Dio Mi è fratello Sorella E madre Capitolo 4 Gesù prese di nuovo Ad insegnare Presso il mare Ed una grande Moltitudine Si radunò Intorno A lui Tal che Egli montato In una barca Vi sedette Stando in mare Mentre tutta La moltitudine Era a terra Sulla riva Ed egli insegnava Loro Molte cose In parabole E diceva Loro Nel suo Insegnamento Udite Ecco Il seminatore Usci A seminare E avvenne Che mentre Seminava Una parte Del seme Cadde lungo La strada E gli uccelli Vennero E lo mangiarono E un'altra Cadde In un suolo Roccioso Ove Non aveva Molta terra E subito Spuntò Perché non aveva Terreno profondo Ma quando Il sole Si levò Fu riarza E perché Non aveva Radice Si seccò Ed un'altra Cadde Fra le spine E le spine Crebbero E l'affogarono E non fece frutto Ed altre parti Caddero Nella buona terra E portarono Frutto Che venne Su E crebbe E giunsero A dare Qual Trenta Qual Sessanta E quale Cento Poi disse Chi ha Orecchi Da odire Oda Quando Egli fu Indisparte Quelli Che si trovavano Intorno Coi dodici Lo Interrogarono Sulle parabole Ed Egli disse Loro A voi È dato Di conoscere Il mistero Del regno Di Dio Ma a quelli Che sono Di fuori Tutto È presentato Per via Di parabole Affinché Vedendo Vedano Sì Ma non Discernano Udendo Odano Sì Ma non Intendano Che talora Non si Convertano E i peccati Non siano Loro Rimessi Poi Disse Loro Non intendete Voi Questa Parabola E come Intenderete Voi Tutte Le parabole Il Seminatore Semina La parola Quelli Che sono Lungo La strada Sono Coloro Nei quali È Seminata La parola E Quando L'hanno Dita Subito Viene Satana E Porta Via La parola Seminata In Loro E parimenti Quelli Che ricevano La semenza In luoghi Rocciosi Sono Coloro Che Quando Hanno Dito La parola La ricevono Subito Con Allegrezza E Non hanno In sé Radice Ma Sono Di corta Durata E Poi Quando Venga Tribolazione O Persecuzione A Cagione Della Parola Sono Subito Scandalizzati Ed Altri Sono Quelli Che Ricevano La semenza Fra Le spine Cioè Coloro Che Hanno Dita La parola Poi Le cure Mondale E L'inganno Delle Ricchezze E Le Cubitige Delle Altre Cose Penetrati Loro Affogano La parola E Così Riesce Infruttuosa Quelli Poi Che Hanno Ricevuto Il seme In buona Terra Sono Coloro Che Odono La parola E L'accolgono E Fruttano Qual Trenta Qual Sessanta E Quale Cento Poi Diceva Ancora Si Reca Forse La Lampada Per Metterla Sotto Il Moggio O Sotto Il Letto Non È La Recata Per Essere Messa Sul Candeliere Perché Non V'è Nulla Che Sia Nascosto Se Non In vista Ad Essere Manifestato E Nulla È Stato Tenuto Segreto Se Non Per Essere Messo In Luce Se Uno Ha Orecchi Da Udire Oda Diceva Diceva Loro Ancora Ponete Mente A Ciò Che Voi Udite Con La Misura Con La Quale Misurate Sarà Misurato A Voi E A Voi Sarà Data Anche La Giunta Poiché A Chi Ha Sarà Dato E A Chi Non Ha Anche Quello Che Ha Gli Sarà Tolto Diceva Ancora Il Regno Di Dio È Come Un Uomo Che Getti Il Seme In Terra E Dorma E Si Levi La Notte E Il Giorno Il Seme Intanto Germoglia E Cresce Nel Modo Che Gli Stesso Ignora La Terra Da Se Stessa Dà Il Suo Frutto Prima L'erba Poi La Spiga Poi Nella Spiga Il Grano Ben Formato E Quando Il Frutto È Maturo Subito Egli Vi Mette La Falce Perché La Mietitura È Venuta Diceva Ancora A che Assomiglieremo Il Regno Di Dio O Con Quale Parabola Lo Rappresenteremo Esso È Simile Ad Un Granello Di Senapa Il Quale Quando Lo Si Semina In Terra È Il Più Piccolo Di Tutti I Semi Che Sono Sulla Terra Ma Quando È Seminato Cresce E Diventa Maggiore Di Tutti I Legumi E Fa Dei Rami Tanto Grandi Che All'ombra Sua Possono Ripararsi Gli Uccelli Del Cielo E Con Molte Così Fatte Parabole Esponeva Loro La Parola Secondo Che Potevano Intendere E Non Parlava Loro Senza Parabola Ma In Privato Spiegava Ogni Cosa Ai Suoi Discevoli In quel Medesimo Giorno Fattosi Sera Gesù Disse Loro Passiamo All'altra Riva E Discepoli Licenziata La Moltitudine Lo Presero Così Com'era Nella Barca E Vi Erano Delle Altre Barche Con Lui Ed Ecco Levarsi Un Grande Turbine Di Vento Che Cacciava Le Onde Nella Barca Talche Ella Già Si Riempiva Ora Egli Stava A poppa Dormendo Sul Guanciale I Discepoli Lo Destano E Gli Dicono Maestro Non Ti Curi Tu Che Noi Periamo Ed Egli Destatosi Sgridò Il Vento E Disse Al Mare Taci Calmati E Il Vento Cessò E Si Fece Grande Bonaccia Ed Egli Disse Loro Perché Siete Così Paurosi Come Mai Non Avete Voi Sede Ed Essi Furono Presi Da Grande Timore E Si Dicevano Gli Un Agli Altri Chi È Dunque Costui Che Anche Il Vento Ed Il Mare Gli Ubbidiscano Capitolo 5 E Giunsero All'altra Riva Del Mare Nel Paese Dei Geraseni E Come Gesù Fu Smontato Dalla Barca Subito Gli Venne Incontro Dai Sepolcri Un Uomo Posseduto Da Uno Spirito Immondo Il Quale Nei Sepolcri Aveva La Sua Dimora E Neppure Con Una Catena Poteva Più Alcuno Tenerlo Legato Perché Spesso Era stato Legato Con Ceppi E Con Catene E Le Catene Erano State Da Lui Rotte E I Ceppi Spezzati E Nessuno Aveva La Forza Da Domarlo E Di Continuo Notte E Giorno Tra I Sepolcri E Superi Monti Andava Orlando E Percotendosi Con Delle Pietre Ora Quando Ebbe Veduto Gesù Da Lontano Corse Egli Si Prostrò D'innanzi E Dato Un Grande Grido Disse Che Vè Fra Me Te O Gesù Figliuolo Dell'iddio Altissimo Io Ti Scongiuro In Nome Di Dio Di Non Tormentarmi Perché Gesù Gli Diceva Spirito Immondo Esci Da Quest'uomo E Gesù Gli Domandò Qual È Il Tuo Nome Ed Egli Rispose Il Mio Nome È Legione Perché Siamo Molti E Lo Pregava Con Insistenza Che Non Li Mandasse Via Dal Paese Ora Qui Vi Per Il Monte Stava A Pascolare Un Grande Branco Di Porci E Gli Spiriti Lo Pregarono Dicendo Mandaci Nei Porci Perché Entriamo In Essi Ed Egli Lo Permise Loro E Gli Spiriti Immondi Usciti Entrarono Nei Porci E Il Branco Si Avventò Giù A Precipizio Nel Mare Erano Circa Duemila Ed Affogarono Nel Mare E Quelli Che Li Pasturavano Fuggirono E Portarono La Notizia In Città E Per La Campagna E La Gente Andò A Vedere Ciò Che Era Avvenuto E Vennero A Gesù E Videro L'indemoniato Seduto Vestito Ed I Bonsenno Lui Che Aveva Avuto La Legione E Si Impaurirono E Quelli Che Avevano Visto Raccontarono Loro Ciò Che Era Avvenuto All'indemoniato E Il Fatto Dei Porci Ed Essi Presero A Pregare Gesù Che Se Ne Andasse Dai Loro Confini E Come Egli Montava Nella Che Era Stato Indemoniato Lo Pregava Di Poter Stare Con Lui E Gesù Non Glielo Permise Ma Gli Disse Va A Casa Tua Dai Tuoi E Racconta Loro Le Grandi Cose Che Il Signore Ti Ha Fatto E Come Egli Ha Avuto Pietà Di Te E Quello Se Ne Andò E Cominciò A Pubblicare Per La Decapoli Le Grandi Cose Che Gesù E Tutti Si Maravigliarono Ed Essendo Gesù Passato Di Nuovo In Barca All'altra Riva Una Grande Moltitudine Si Radunò Attorno A Lui Ed Egli Stava Presso Il Mare Ed Ecco Venire Uno Dei Capi Della Sinagoga Chiamato Jairo Il Quale Vedutolo Li Si Getta Ai Piedi E Lo Prega Istantemente Dicendo La Mia Figliolina E Agli estremi A Mettere Sopra Lei Le Mani Affinché Sia Salva E Viva E Gesù Andò Con Lui E Gran Moltitudine Lo Seguiva E L'Affollava Ora Una Donna Che Aveva Un Flusso Di Sangue Da Dodici Anni E Molto Aveva Sofferto Da Molti Medici Ed Aveva Speso Tutto Il Suo Senza Alcun Giovamento Anzi Era Piuttosto Peggiorata Avendo Dito Parlare Di Gesù Venne Per Di Dietro Fra La Calca E Gli Toccò La Veste Perché Diceva Se Riesco A Toccare Non Foss' Altro Che Le Suo Vesti Sarò Salva E In Quell' Istante Il Suo Flusso Ristagnò Ed Ella Sentì Nel Corpo Di Essere Guarita Di Quel Flagello E Subito Gesù Conscio Della Virtù Che Era Emanata Da Lui Voltosi Indietro In Quella Calca Disse Chi Mi Ha Toccato Le Vesti E I Suoi Discepoli Gli Dicevano Tu Vedi Come La Folla Ti Si Serra Addosso E Dici Chi Mi Ha Toccato Ed Egli Guardava Attorno Per Vedere Colei Che Aveva Fatto Ciò Ma La Donna Paorosa E Tremante Ben Sapendo Quel Che Era Avvenuto In Lei Venne E Li Si Gettò Ai Piedi E Li Disse Tutta La Verità Ma Gesù Le Disse Figliuola La Tua Fede Vattene In Pace E Sii Guarita Dal Tuo Fagello Mentre Egli Parlava Ancora Ecco Arrivare Gente Da Casa Del Capo Della Sinagoga Che Gli Dice La Tua Figliuola E Morta Perché Incomodare Più Oltre Il Maestro Ma Gesù Inteso Quello Che Si Diceva Disse Al Capo Della Sinagoga Non Temere Solo Abbi Fede E Non Permise Ad Alcuno Di Accompagnarlo Salvo Che A Pietro A Giacomo E A Giovanni Fratello Di Giacomo E Giungono A Casa Del Capo Della Sinagoga Ed Egli Vede Del Tumulto E Gente Che Piange Turla Forte Ed Entrato Dice Loro Perché Fate Tanto Strepito E Piangete La Fanciulla Non È Morta Ma Dorme Essi Ridevano Di Lui Ma Egli Messili Tutti Fuori Prende Seco Il Padre E La Madre Della Fanciulla E Quelli Che Erano Con Lui Ed Entra Là Dove Era La Fanciulla E Presara Per La Mano Le Dice Talità Cumì Che Interpretrato Vuol Dire Giovinetta Io Te Lo Dico Levati E Tosto La Giovinetta S'alzò E Camminava Perché Aveva Dodici Anni E Furono Subito Presi Da Grande Stupore Ed Egli Comandò Loro Molto Strettamente Che Non Lo Risapesse Alcuno E Disse Che Le Fosse Dato Da Mangiare Capitolo 6 Poi Si Partì Di Là E Venne Nel Suo Paese E I Suoi Discepoli Lo Seguitarono E Venuto Il Sabato Si Mise Ad Insegnare Nella Sinagoga E La Maggior Parte Udendolo Stupivano Dicendo Donde Ha Costui Queste Cose E Che Sapienza È Questa Che Gli È Data E Che Cosa Sono Cotali Opere Potenti Fatte Per Mano Sua Non È Costui Il Falegname Il Figliuolo Di Maria E Il Fratello Di Giacomo E Di Giuse Di Giuda E Di Simone E Le Sue Sorelle Della Danaro Nella Cintura Ma Di Calzarsi Di Sandali E Di Non Portar Tunica Di Ricambio E Diceva Loro Dovunque Sarete Entrati In Una Casa Trattenete Trattenetevi Quivi Finché Non Ve Ne Andiate Di Là E Se In Qualche Luogo Non Vi Ricevano Ne V' Ascoltano Andandovene Di Là Scuotetevi La Polvere Di Sotto Ai Piedi E Ciò Serva Loro Di Testimonianza E Partiti Predicavano Che La Gente Si Ravedesse Cacciavano Molti Demoni Ungevano D'olio Molti Infermi E Li Guarivano Ora Il Re Erode Udì Parlare Di Gesù Perché La Sua Rinomanza S'era Sparsa E Diceva Giovanni Battista È Rissuscitato Dai Morti Ed È Per Questo Che Agiscono In Lui Le Potenze Miracolose Altri Invece Dicevano È Elia Ed Altri È Un Profeta Come Quelli Di Una Volta Ma Erode Udito Ciò Diceva Quel Giovanni Che Io Fatto Decapitare È Lui Che È Ressuscitato Poiché Esso Erode Aveva Fatto Arrestare Giovanni E L'aveva Fatto Incatenare In Prigione A motivo Di Erodiada Moglie Di Filippo Suo Fratello Che Egli Erode Aveva Sposata Giovanni Infatti Gli Diceva Non Ti È Lecito Di Tenere La Moglie Di Tuo Fratello Ed Erodiada Li Serbava Rancore E Bramava Di Farlo Morire Ma Non Poteva Perché Erode Aveva Soggezione Di Giovanni Sapendolo Uomo Giusto E Santo E Lo Proteggeva Dopo Averlo Udito Era Molto Perplesso E L'ascoltava Volentieri Ma Venuto Un Giorno Opportuno Che Erode Nel Suo Natalizio Fece Un Convito Ai Grandi Della Sua Corte Ai Capitani Ed Ai Primi Della Galilea La Figliola Della Stessa Erodiada Essendo Entrata Vallò E Piacque Ad Erode E Ai Commensali Ed Il Re Disse Alla Fanciulla Chiedimi Quello Che Vuoi E Te Lo Darò E Le Giurò Ti Darò Quello Che Mi Chiederai Fino Alla Metà Del Mio Regno Costei Uscita Domandò A Sua Madre Che Chiederò E Quella Le Disse La Testa Di Giovanni Battista E Rientrata Subito Frettolosamente Dal Re Gli Fece Così La Domanda Voglio Che Sul Momento Tu Mi Dia In Un Piatto La Testa Di Giovanni Battista Il Re Ne Fu Grandemente Attristato Ma A Motivo Dei Giuramenti Fatti E Dei Commensali Non Volle Dirle Di No E Mandò Subito Una Guardia Con L'Ordine Di Portargli La Testa Di Lui E Quegli Andò Lo Decapitò Nella Prigione E Ne Portò La Testa In Un Piatto E La Dette Alla Fanciulla E La Fanciulla La Dette A Sua Madre I Discepoli Di Giovanni Udita La Cosa Andarono A Prendere Il Suo Corpo E Lo Deposero In Un Sepolcro Ora Gli Apostoli Essendosi Raccolti Presso Gesù Gli Riferirono Tutto Quello Che Avevano Fatto E Insegnato E Gli Disse Loro Venitevene Ora In Disparte In Luogo Solitario E Riposatevi Un Po Di Fatti Era Tanta La Gente Che Andava E Veniva Che Essi Non Avevano Neppure Tempo Di Mangiare Partirono Dunque Nella Barca Per Andare In Un Luogo Solitario In Disparte E Molti Dividero Partire E Li Riconobbero E Da Tutte Le Città Corsero La A Piedi E Vi Giunsero Prima Di Loro E Come Gesù Fu Sbarcato Vide Una Compassione Perché Erano Come Pecore Che Non Hanno Pastore E Si Mise Ad Insegnare Loro Molte Cose Ed Essendo Già Tardi I Discepoli Li Si Accostarono E Li Dissero Questo Luogo È Deserto Ed È Già Tardi Licenzali Affinché Vadano Per Le Campagne E Per I Villaggi Dintorno A Comprarsi Qualcosa Da Mangiare Ma Egli Rispose Loro Date Loro Voi Da Mangiare Ed Essi A Lui Andremo Noi A Comprare Per Ducento Denari Di Pane E Daremo Loro Da Mangiare Ed Egli Domandò Loro Quanti Pani Avete Andate A Vedere Ed Essi Accertatisi Risposero Cinque E Due Pesci Allora Egli Comandò Loro Di Farli Accomodare Tutti Abbrigate Sull'erba Verde E Si Assisero Per Gruppi Di Cento E Di Cinquanta Poi Gesù Prese I Cinque Pani E I Due Pesci E Levati Gli Occhi Al Cielo Benedisse Spezzò I Pani E Li Dava I Discepoli Affinché Li Mettessero Dinanzi Alla Gente E I Due Pesci Partì Pure Fra Tutti E Tutti Mangiarono E Furono Satti E Si Portarono Via Dodici Ceste Piene Di Pezzi Di Pane E Anche I Resti Dei Pesci E Quelli Che Avevano Mangiato I Pani Erano Cinquemila Uomini Subito Dopo Gesù Obbligò I Suoi Discepoli A Montare Nella Barca E A Precederlo Sull'altra Riva Verso Bethsaida Mentre Egli Licenzerebbe La Moltitudine E Preso Commiato Se ne Andò Sul Monte A Pregare E Fatosi Sera La Barca Era In Mezzo Al Mare Ed Egli Era Solo A Terra E Vedendoli Che Si Affannavano Arremare Perché Il Vento Era Contrario Verso La Quarta Vigilia Della Notte Andò Alla Loro Volta Camminando Sul Mare E Voleva Ortrepassarli Ma Essi Vedutolo Camminare Sul Mare Pensarono Che Fosse Un Fantasma E Si Dettero A Gridare Perché Tutti Lo Videro E Ne Furono Sconvolti Ma Egli Dubito Parlò Loro E Disse State Di Buon Cuore Sono Io Non Temete E Montò Nella Barca Con Loro E Vento Sacquetò Ed Essi Più Che Mai Sbigottirono In Loro Stessi Perché Non Avevano Capito Il Fatto Dei Pani Anzi Il Cuore Loro Era Indurito Passati All'altra Riva Vennero A Genesaret E Vi Presero Terra E Come Furono Sbarcati Subito La Gente Riconosciutolo Corse Per Tutto Il Paese E Cominciarono A Portare Qua E La I Malati Sui Loro Lettucci Dovunque Sentivano Dire Che Egli Si Trovasse E Dappertutto Dove Egli Entrava Nei Villaggi Nelle Città E Nelle Campagne Posavano Gli Infermi Per Le Piazze E Lo Pregavano Che Li Lasciasse Toccare Non Fossaltro Che Il Lembo Del Suo Vestito E Tutti Quelli Che Lo Toccavano Erano Guariti Capitolo Sette Allora Si Radunarono Presso Di Lui I Farisei Ed Alcuni Degli Scrivi Venuti Da Gerusalemme E Videro Che Alcuni Dei Suoi Discepoli Prendevano Cibo Con Mani Impure Cioè Non Lavate Poiché I Farisei E Tutti I Giudei Non Mangiano Se Non Si Sono Con Grande Cura Lavate Le Mani Attenendosi Alla Tradizione Degli Antichi E Quando Tornano Dalla Piazza Non Mangiano Se Non Si Sono Purificati Con Delle Asperzioni E Vi Sono Molte Altre Cose Che Ritengono Per Tradizione Lavatura Di Calici Dorcioli E Di Vasi Di Rame E I Farisei Ed Iscrivi Gli Domandarono Perché I Tuoi Discepoli Non Seguono Essi La Tradizione Degli Antichi Ma Prendono Cibo Con Mani Impure Ma Gesù Disse Loro Ben Profetò Isaia Di Voi Ipocriti Come Scritto Questo Popolo Mi Onora Con Le Labbra Ma Il Cuore Loro È Lontano Da Me Ma In Vano Mi Rendono Il Loro Culto Insegnando Dottrine Che Sono Precetti Di Uomini Voi Lasciato Il Comandamento Di Dio State Attaccati Alla Tradizione Degli Uomini E Diceva Loro Ancora Come Ben Sapete Annullare Il Comandamento Di Dio Per Osservare La Tradizione Vostra Mosè Infatti Ha Detto Onora Tuo Padre E Tua Madre E Chi Maledice Padre O Madre Sia Punito Di Morte Voi Invece Se Uno Dice A Suo Padre O Da Sua Madre Quello Con E Corban Non vè nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo ma sono le cose che escono dall'uomo Quelle che contaminano l'uomo Se uno ha orecchi da udire oda E quando lasciata la moltitudine fu entrato in casa i suoi discepoli lo interrogarono intorno alla parabola ed egli disse loro Siete anche voi così privi di intendimento non capite voi che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare perché gli entra non nel cuore ma nel ventre e se ne va nella latrina Così dicendo dichiarava puri tutti quanti i cibi diceva inoltre è quello che esce dall'uomo che contamina l'uomo Poiché è dal di dentro dal cuore degli uomini che escono cattivi pensieri fornicazioni furti omicidi adulteri cupidice malvagità frode lascivia sguardo maligno calugna superbia stoltezza Tutte queste cose malvagie escono dal di dentro e contaminano l'uomo Poi partitosi di là se ne andò verso i confini di tiro ed entrato in una casa non voleva che alcuno lo sapesse Ma non poter restare nascosto perché anzi subito una donna la cui figliolina aveva uno spirito immondo Avendo udito parlare di lui venne e li si gettò ai piedi Quella donna era pagana di nazione siro fenicia e lo pregava di cacciare il demonio della sua figliola Ma Gesù le disse Lascia che prima siano saziati i figlioli perché non è bene prendere il pane dei figlioli per buttarlo ai cagnolini Ma ella gli rispose Dici bene signore E i cagnolini sotto la tavola mangiano dei minuzzoli dei figlioli E Gesù le disse Per codesta parola va il demonio è uscito dalla tua figliola E la donna tornata a casa sua trovò la figliolina coricata sul letto e il demonio uscito di lei E partitosi di nuovo dai confini di tiro Gesù passando per Sidone tornò verso il mare di Galilea traversando il territorio della Decapoli E gli menarono un sordo che parlava astento e lo pregarono che gli imponesse le mani Ed egli trattolo in disparte fuori dalla folla Gli mise le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua Poi levati gli occhi al cielo sospirò e gli disse E fatà che vuol dire apriti E gli si aprirono gli orecchi E subito gli si sciolse lo scilinguagnolo e parlava bene E Gesù ordinò loro di non parlarne ad alcuno Ma più lo divietava loro e più lo divulgavano E stupivano oltremodo dicendo Egli ha fatto ogni cosa bene I sordi li fa udire e i mutoli li fa parlare Capitolo 8 In quei giorni essendo di nuovo la folla grandissima E non avendo ella da mangiare Gesù chiamati a sé i discepoli disse loro Io ho pietà di questa moltitudine Poiché già da tre giorni sta con me e non ha da mangiare E se li rimando a casa digiuni Verranno meno per via E venanno alcuni che sono venuti da lontano E i suoi discepoli gli risposero Come si potrebbe mai saziarli di pane qui in un deserto? Ed egli domandò loro Quanti pani avete? Essi dissero Sette Ed egli ordinò alla folla di accomodarsi per terra E presi i sette pani Dopo avere rese grazie Li spezzò e diede ai discepoli Perché li ponessero dinnanzi alla folla Ed essi li posero Avevano anche alcuni pochi pescetti Ed egli fatta la benedizione Comandò di porre anche quelli dinnanzi a loro E mangiarono e furono saziati E dei pezzi avanzati Ti levarono sette panieri Ora erano circa quattromila persone Poi Gesù li licenziò E subito montato nella barca coi suoi discepoli Andò dalle parti di Dalmanuta E i farisei si recarono colà E si misero a disputare con lui Chiedendogli per metterlo alla prova Un segno dal cielo Ma egli Dopo avere sospirato nel suo spirito Disse Perché questa generazione Chiede ella un segno In verità io vi dico Non sarà dato alcun segno A questa generazione E lasciatili Montò di nuovo nella barca E passò all'altra riva Ora i discepoli Avevano dimenticato di prendere Dei pani E non avevano seco nella barca Che un pane solo Ed egli dava loro dei precetti Dicendo Badate Guardatevi dal lievito Dei farisei E dal lievito De rode Ed essi si dicevano Gli uni Agli altri Egli è perché Non abbiamo pane E Gesù Accortosene Disse loro Perché ragionate voi Del non avere pane Non riflettete E non capite voi ancora Avete il cuore Indurito Avendo occhi Non vedete E avendo orecchie Non udite E non avete memoria alcuna Quando io spezzai I cinque pani Per i cinquemila Quante ceste piene Di pezzi Levaste Essi dissero Dodici E quando spezzai I sette pani Per i quattromila Quanti panieri Pieni di pezzi Levaste Ed essi risposero Sette E diceva loro Non capite ancora E vennero In Bethsaida E gli fu menato Un cieco E lo pregarono Che lo toccasse Ed egli Preso il cieco Per la mano Lo condusse fuori Del villaggio E sputatogli Negli occhi E impostegli Le mani Gli domandò Vedi tu Qualche cosa? Ed egli Levati gli occhi Disse Corgo gli uomini Perché li vedo Camminare E mi paiono Alberi Poi Gesù Gli mise Di nuovo Le mani Sugli occhi Ed egli Riguardò E fu guarito E vedeva Ogni cosa Chiaramente E Gesù Lo rimandò A casa sua E gli disse Non entrare Neppure Nel villaggio Poi Gesù Coi suoi Discepoli Se ne andò Verso le borcate Di Cesarea Di Filippo E cammin facendo Domandò Ai suoi Discepoli Chi dice La gente Che io sia Ed essi Risposero Gli uni Giovanni Battista Altri Elia Ed altri Uno dei profeti Ed egli Domandò Loro E voi Chi dite Che io sia E Pietro Gli rispose Tu sei Il Cristo Ed egli Vietò Loro Severamente Di dire Ciò Di lui Ad alcuno Poi Cominciò Ad insegnare Loro Che era Necessario Che il figliolo Dell'uomo Soffrisse Molte cose E fosse Respinto Dagli anziani E dai capi Sacerdoti E dagli Scribi E fosse Ucciso E in capo A tre giorni Risuscitasse E diceva Queste cose Apertamente E Pietro Trattolo Da parte Prese A rimproverarlo Ma egli Rivoltosi E guardati I suoi discepoli Rimproverò Pietro Dicendo Vattene via Da me Satana Tu non hai Il senso Delle cose Di Dio Ma delle cose Degli uomini E chiamata A sé La folla Con i suoi discepoli Disse loro Se uno Vuol venire Dietro a me Rinunzi A sé stesso E prenda La sua croce E mi segua Perché Chi vorrà Salvare La sua vita La perderà Ma chi Perderà La sua vita Per amore Di me E del Vangelo La salverà E che Giova Egli All'uomo Se guadagna Tutto il mondo E perde Dell'anima Sua E infatti Che darebbe L'uomo In cambio Dell'anima Sua Perché Se uno Si sarà Vergognato Di me E delle mie Parole In questa Generazione Adultera E peccatrice Anche il figliolo Dell'uomo Si vergognerà Di lui Quando sarà Venuto Nella gloria Del padre Suo Coi santi Angeli Capitolo 9 E diceva Loro In verità Io vi Dico Che alcuni Di coloro Che son Qui Presenti Non Gusteranno La morte Finché Non abbiano Visto Il regno Di Dio Venuto Con Potenza Sei giorni Dopo Gesù Prese Seco Pietro E Giacomo E Giovanni E li Condusse Soli In Disparte Sopra Un Alto Monte E Fu Trasfigurato In Presenza Loro E I Suoi Vestiti Divennero Sfolgoranti Candidissimi Di Un Tale Candore Che Nessun Lavatore Di Panni Sulla Terra Può Dare Ed Apparve Loro Elia Con Mosè I Quali Stavano Conversando Con Gesù E Pietro Rivoltosi A Gesù Maestro Disse Egli è Bene Che Stiamo Qui Facciamo Tre Tende Una Per Te Una Per Mosè E Una Per Elia Poiché Non Sapeva Cosa Dire Perché Erano Stati Stati Presi Da Spavento E Venne Una Nuvola Che Li Coperse Della Sua Ombra E Dalla Nuvola Una Voce Questo È Il Mio Diletto Figliuolo Ascoltatelo E Ad Un Tratto Guardatisi Attorno Non Videro Più Alcuno Con Loro Se Non Gesù Solo Ora Come Scendevano Dal Monte Egli Ordinò Loro Di Non Raccontare Ad Alcuno Le Cose Che Avevano Vedute Se Non Quando Il Figliuolo Dell'uomo Sarebbe Risuscitato Dai Morti Poi Gli Chiesero Perché Dicono Gli Scrivi Che Prima Deve Venire Elia Ed Egli Disse Loro Elia Deve Venire Prima E Ristabilire Ogni Cosa E Come Mai E Scritto Del Figliuolo Dell'uomo Che Egli Ha Da Patire Molte Cose E Da Essere Sprezzato Ma Io Vi Dico Che Elia E Già Venuto Ed Anche Gli Hanno Fatto Quello Che Hanno Voluto Come Scritto Di Lui E Venuti Ai Discepoli Videro Intorno A Loro Una Grande Folla E Degli Scrivi Che Discutevano Con Loro E Subito Tutta La Folla Veduto Gesù Sbigottì E Accorse A Salutarlo Ed Egli Domandò Loro Di Che Discutete Voi Con Loro E Uno Della Folla Gli Rispose Maestro Io Tommenato Il Mio Figliuolo Che Ha Uno Spirito Mutolo E Dovunque Esso Lo Prende Lo Atterra Ed Egli Schiuma Stride Dei Denti E Rimane Stecchito Ho Detto Ai Tuoi Discepoli Che Lo Cacciassero Ma Non Hanno Potuto E Gesù Rispondendo Disse Loro O Generazione Incredula Fino A Quando Sarò Io Con Voi Fino A Quando Vi Sopporterò Menatemelo E Gli Lomenarono E Come Vide Gesù Subito Lo Spirito Lo Torse In Convulsione E Caduto In Terra Si Rotolava Schiumando E Gesù Domandò Al Padre Da Quanto Tempo Gli Avviene Questo Ed E Gli Disse Dalla Sua Infanzia E Spesse Volte L'ha Gettato Anche Nel Fuoco E Nell'acqua Per Farlo Perire Ma Tu Se Ci Puoi Qualcosa Abbi Pietà Di Noi Ed Aiutaci E Gesù Da Lui E Non Entrare Più In Lui E Lo Spirito Gridando E Spraziandolo Forte Uscì E Il Fanciullo Rimase Come Morto Tal Che Quasi Tutti Dicevano È Morto Ma Gesù Lo Sollevò Ed Egli Si Rizzò In Piedi E Quando Gesù Fu Entrato In Casa I Suoi Discepoli Gli Domandarono In Privato Perché Non Abbiamo Potuto Cacciarlo Noi Ed Egli Disse Loro Cotesta Specie Di Spiriti Non Si Può Far Uscire In Altro Modo Che Con La Preghiera Poi Essendosi Partiti Di Là Traversarono La Galilea E Gesù Non Voleva Che Alcuno Lo Sapesse Poiché Egli Ammaestrava I Suoi Discepoli E Diceva Loro Il Figliuolo Dell'Uomo Sta Per Essere Dato Nelle Mani Degli Uomini Ed Essi Lo Uccideranno E Tre Giorni Dopo Essere Stato Ucciso Risusciterà Ma Essi Non Intendevano Il Suo Dire E Temevano Di Interrogarlo E Vennero A Capernaum E Quando Egli Fu In Casa Domandò Loro Di Che Discorrevate Per via Ed Essi Tacevano Perché Per via Avevano Questionato Fra loro Chi Fosse Il Maggiore Ed Egli Postosi A Sedere Chiamò I Dodici E Disse Loro Se Alcuno Vuol essere Il Primo Dovrà Essere L'Ultimo Di Tutti E Il Servitore Di Tutti E Preso Un Piccolo Fanciullo Lo Pose In Mezzo A Loro E Recatoselo In Braccio Disse Loro Chiunque Riceve Uno Di Tali Piccoli Fanciulli Nel Nome Mio Riceve Me E Chiunque Riceve Me Non Riceve Me Ma Colui Che Mi Ha Mandato Giovanni Gli Disse Maestro Noi Abbiamo Veduto Uno Che Cacciava I Demoni Nel Nome Tuo Il Quale Non Ci Seguita E Glielo Abbiamo Vietato Perché Non Ci Seguitava Ma Gesù Disse Non Glielo Vietate Poiché Non Ve Alcuno Che Faccia Qualche Opera Potente Nel Mio Nome E Che Subito Dopo Possa Dire Male Di Me Poiché Chi Non È Contro Di Noi È Per Noi Perché Chiunque Vi Avrà Dato A Bere Un Micchier D'acqua In Nome Mio Poiché Siete Di Cristo In Verità Vi Dico Che Non Perderà Punto Il Suo Premio E Chiunque Avrà Scandalizzato Uno Di Questi Piccoli Che Credono Meglio Sarebbe Per Lui Che Gli Fosse Messa Al Collo Una Macina Da Molino E Fosse Gettato In Mare E Se La Tua Mano Ti Fa Intoppare Mozzala Meglio È Per Te Entrare Monco Nella Vita Che Avere Due Mani E Andare Nella Genna Nel Fuoco Inestinguibile Dove Il Vermeloro Non Muore E Il Fuoco Non Si Spegne E Se Il Tuo Piede Ti Fa Intoppare Mozzalo Meglio È Per Te Entrare Zoppo Nella Vita Che Avere Due Piedi Ed Essere Gettato Nella Genna Dove Il Vermeloro Non Muore E Il Fuoco Non Si Spegne E Se L'Occhio Tuo Ti Fa Intoppare Cavalo Meglio È Per Te Entrare Con Un Occhio Solo Nel Regno Di Dio Che Avere Due Occhi Ed Essere Gettato Nella Genna Dove Il Vermeloro Non Muore E Il Fuoco Non Si Spegne Poiché Ognuno Sarà Salato Con Fuoco Il Sale È Buono Ma Se Il Sale Diventa Insipido Con Che Gli Darete Sapore Abbiate Del Sale In Voi Stessi E State In Pace Gli Un Con Gli Altri Capitolo Dieci Poi Levatosi Di Là Se Ne Andò Sui Confini Della Giudea Ed Oltre Il Giordano E Di Nuovo Si Radunarono Presso A Lui Delle Turbe Ed Egli Di Nuovo Come Soleva Le Ammaestrava E Dei Farisei Accostatisi Gli Domandarono Tentandolo Egli Lecito Ad Un Marito Di Mandar Via La Moglie Ed Egli Rispose Loro Mosè Che Va Egli Comandato Ed Essi Rissero Mosè Permise Di Scrivere Un Atto Di Divorzio E Di Mandarla Via E Gesù Disse E Loro E Per la durezza del vostro cuore che gli scrisse per voi quel precetto ma al principio della creazione iddio li fece maschio e femmina Perciò Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una sola carne tal che non sono più due ma una stessa carne quello dunque che il dio ha congiunto l'uomo non lo separi E in casa i discepoli lo interrogarono di nuovo sullo stesso soggetto ed egli disse loro chiunque manda via sua moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei e se la moglie ripudiato il marito ne sposa un altro commette adulterio Ora li presentavano dei bambini perché li toccasse ma i discepoli sgridavano coloro che gli ripresentavano E Gesù veduto ciò si indignò e disse loro lasciate i piccoli fanciulli venire a me non glielo vietate perché di tali è il regno di Dio In verità io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un piccolo fanciullo non entrerà punto in esso E presili in braccio ed imposte loro le mani li benediceva Ora come egli usciva per mettersi in cammino un tale accorse e inginocchiatosi davanti a lui gli domandò Maestro buono che farò io per ereditare la vita eterna E Gesù gli disse perché mi chiami buono Nessuno è buono tranne uno solo cioè il Dio Tu sai i comandamenti non uccidere non commettere adulterio non rubare Non dire falsa testimonianza non fare torto ad alcuno onora a tuo padre e tua madre Ed egli rispose Maestro Tutte queste cose io le ho osservate fino dalla mia giovinezza E Gesù Riguardatolo in viso Lo amò e gli disse Una cosa ti manca Va Vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri E tu avrai un tesoro nel cielo Poi vieni e seguimi Ma egli rattristato da quella parola se ne andò dolente perché aveva di grandi beni E Gesù Guardatosi attorno disse ai suoi discepoli Quanto malagevolmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio E i discepoli sbigottirono a queste sue parole E Gesù da capo replicò loro Figlioli Quanto è malagevole a coloro che si confidano nelle ricchezze entrare nel regno di Dio E' più facile a un cammello passare per la cruna di un ago che ad un ricco entrare nel regno di Dio Ed essi vi è più stupivano dicendo fra loro Chi dunque può essere salvato? E Gesù riguardatili disse Agli uomini è impossibile Ma non a Dio Perché tutto è possibile a Dio E Pietro prese a dirgli Ecco Noi abbiamo lasciato ogni cosa E t'abbiamo seguitato E Gesù rispose Io vi dico in verità Che non v'è alcuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre O figlioli o campi Per amore di me E per amore dell'Evangelo Il quale ora in questo tempo non ne riceva cento volte tanto Case Fratelli Sorelle Madri Figlioli Campi Insieme a persecuzioni E nel secolo avvenire la vita eterna Ma molti primi saranno ultimi E molti ultimi primi Ora erano in cammino salendo a Gerusalemme E Gesù andava innanzi a loro Ed essi erano sbigottiti E quelli che lo seguivano erano presi da timore Ed egli Tratti di nuovo da parte i dodici Prese a dire loro Le cose che gli avverrebbero Ecco Noi saliamo a Gerusalemme E il figliolo dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi sacerdoti e degli scrivi Ed essi lo condanneranno a morte e lo metteranno nelle mani dei gentili E lo scherniranno e gli sputeranno addosso E lo fragelleranno e lo uccideranno E dopo tre giorni egli risusciterà E Giacomo e Giovanni, figlioli di Zebedeo Si accostarono a lui dicendogli Maestro Desideriamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo Ed egli disse loro Che volete che io vi faccia? Essi gli dissero Concedici di sedere uno alla tua destra E l'altro alla tua sinistra nella tua gloria Ma Gesù disse loro Voi non sapete quello che chiedete Potete voi bere il calice che io bevo? O essere battezzati del battesimo del quale io sono battezzato? Essi gli dissero Sì, lo possiamo E Gesù disse loro Voi certo berrete il calice che io bevo E sarete battezzati del battesimo del quale io sono battezzato Ma quant'è al sedermi a destra o a sinistra Non sta a me il darlo Ma è per quelli cui è stato preparato E i dieci udito ciò Presero a indignarsi di Giacomo e di Giovanni Ma Gesù chiamatili a sé disse loro Voi sapete che quelli che sono reputati principi delle nazioni Le signoreggiano E che i loro grandi usano potestà sopra di esse Ma non è così tra voi Anzi, chiunque vorrà essere grande fra voi Sarà vostro servitore E chiunque fra voi vorrà essere primo Sarà servo di tutti Poiché anche il figliuolo dell'uomo Non è venuto per essere servito Ma per servire E per dare la vita sua Come prezzo di riscatto Per molti Poi vennero in Gerico E come egli usciva di Gerico Coi suoi discepoli e una grande moltitudine Il figliuolo di Timeo Bartimeo Cieco o mendicante Sedeva presso la strada E udito Che chi passava era Gesù Il Nazareno Prese a gridare e a dire Gesù Figliuolo di Davide Abbi pietà di me E molti lo sgridavano Perché tacesse Ma quello gridava più forte Figliuolo di Davide Abbi pietà di me E Gesù Fermatosi Disse Chiamatelo E chiamarono il cieco Dicendo Sta di buon cuore Alzati Egli ti chiama E il cieco Getato via il mantello Balzò in piedi E venne a Gesù E Gesù rivoltosi a lui Gli disse Che vuoi tu Che io ti faccia? E il cieco Gli rispose Rabbuni Che io recuperi la vista E Gesù gli disse Va La tua fede Ti ha salvato E in quell'istante Egli Ricuperò la vista E seguiva Gesù Per la via Capitolo 11 E quando furono giunti Vicino a Gerusalemme A Beffage E Betania Presso al monte Degli Ulivi Gesù mandò due Dei suoi discepoli E disse loro Andate nella borgata Che è di rimpetto A voi E subito Appena entrati Troverete legato Un puledro D'asina Sopra il quale Non è montato Ancora Alcuno Scioglietelo E menatemelo E se qualcuno Vi dice Perché fate questo Rispondete Il Signore Ne ha bisogno E lo rimanderà Subito qua Ed essi Andarono E trovarono Un puledro Legato ad una porta Fuori Sulla strada E lo sciolsero Ed alcuni Di coloro Che erano Lì presenti Dissero loro Che fate Che sciogliete Il puledro Ed essi Risposero Come Gesù Aveva detto E quelli Li lasciarono Fare Ed essi Menarono Il puledro A Gesù E gettarono Su quello I loro mantelli Ed egli Vi montò Sopra E molti Stendevano I loro mantelli Sulla via Ed altri Delle fronde Che avevano Tagliate Nei campi E coloro Che andavano Avanti E coloro Che venivano Dietro Gridavano Osanna Benedetto Colui Che viene Nel nome Del Signore Benedetto Il regno Che viene Il regno Di Davide Nostro Padre Osanna Nei luoghi Altissimi E Gesù Entrò In Gerusalemme Nel Tempio E avendo Riguardata Ogni cosa Attorno Attorno Essendo Già allora Tarda Uscì per andare A Betania Coi dodici E il giorno Seguente Quando furono Usciti Da Betania Egli Ebbe fame E veduto Di lontano Un fico Che aveva Delle foglie Andò a vedere Se per caso Vi trovasse Qualche cosa Ma venuto Al fico Non vi trovò Nient'altro Che foglie Perché non era La stagione Dei fichi E Gesù Prese a dire Al fico Nessuno Mangi Mai più In perpetuo Frutto Da te E i suoi discepoli Udirono E vennero A Gerusalemme E Gesù Entrato Nel Tempio Prese A cacciarne Coloro Che vendevano E che compravano Nel Tempio E rovesciò Le tavole Dei cambiamonete E le sedie Dei venditori Di Colombi E non permetteva Che alcuno Portasse oggetti Attraverso Il Tempio Ed insegnava Dicendo loro Non è Discritto La mia casa Sarà chiamata Casa adorazione Per tutte le genti Ma voi Ne avete fatta Una spelonca Di ladroni Ed i capi Sacerdoti E gli iscrivi Udirono Queste cose E cercavano Il modo Di farlo morire Perché lo temevano Poiché Tutta la moltitudine Era rapita In ammirazione Della sua Dottrina E quando Fu sera Uscirono Dalla città E la mattina Passando Videro il fico Seccato Fino dalle radici E Pietro Ricordatosi Gli disse Maestro Vedi Il fico Che tu Maledicesti È seccato E Gesù Rispondendo Disse loro Abbiate fede In Dio In verità Io vi dico Che chi dirà A questo monte Togliti di là E gettati nel mare Se non dubita In cuor suo Ma crede Che quello Che dice Avverrà Li sarà fatto Perciò Vi dico Tutte le cose Che voi Domanderete Pregando Crediate Che le avete Ricevute E voi Le otterrete E quando Vi mettete A pregare Se avete Qualcosa Contro A qualcuno Perdonate Affinché Il padre Vostro Che è Nei cedi Vi perdoni I vostri Falli Ma se voi Non perdonate Neppure Il padre Vostro Che è Nei cieli Vi perdonerà I vostri Falli Poi Vennero Di nuovo In Gerusalemme E mentre Egli passeggiava Per il Tempio I capi Sacerdoti E gli Scribi E gli Anziani Si accostarono A lui E gli Dissero Con quale Autorità Fai tu Queste cose O chi Ti ha Data Codesta Autorità Di far Codeste Cose E Gesù Disse Loro Io Vi Domanderò Una Cosa Rispondetemi E io Vi dirò Con quale Autorità Io Faccio Queste Cose Il Battesimo Di Giovanni Era Esso Dal Cielo O Dagli Uomini Rispondetemi Ed Essi Ragionavano Fra Loro Dicendo Se Diciamo Dal Cielo E Gli Dirà Perché Dunque Non Li Credeste Diremo Invece Dagli Uomini Essi Temevano Il Popolo Perché Tutti Stimavano Che Giovanni Fosse Veramente Profeta E E Risposero A Gesù Non Lo Sappiamo E Gesù Disse Loro E Neppure Io Vi Dico Con quale Autorità Po Queste Cose Capitolo 12 De E Prese A Dire Loro In Parabole Un uomo Piantò Una Vigna E Le Fece Attorno Una Siepe E Vi Scavò Un luogo Da Spremere L'uva E Vi Edificò Una Torre e l'allogò a dei lavoratori e se ne andò in viaggio e a suo tempo mandò a quei lavoratori un servitore per ricevere da loro dei frutti della vigna ma essi presolo lo batterono e lo rimandarono a vuoto ed egli di nuovo mandò loro un altro servitore e anche lui ferirono nel capo e vituperarono ed egli ne mandò un altro e anche quello uccisero e poi molti altri dei quali alcuni batterono ed alcuni uccisero aveva ancora un unico figliuolo di letto e quello mandò loro per ultimo dicendo avranno rispetto al mio figliuolo ma quei lavoratori dissero fra loro costui è l'erede venite uccidiamolo e l'eredità sarà nostra e presolo lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna che farà dunque il padrone della vigna egli verrà e distruggerà quei lavoratori e darà la vigna ad altri non avete voi neppure letta questa scrittura la pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta pietra angolare ciò è stato fatto dal signore ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri ed essi cercavano di pigliarlo ma temettero la moltitudine perché si avvidero bene che gli aveva detto quella parabola per loro e lasciatolo se ne andarono e gli mandarono alcuni dei farisei e degli erodiani per coglierlo in parole ed essi venuti gli dissero maestro noi sappiamo che tu sei verace e che non ti curi d'alcuno perché non guardi all'apparenza delle persone ma insegni la via di dio secondo verità è egli lecito pagare il tributo a Cesare o no dobbiamo darlo o non darlo ma egli conosciuta la loro ipocrisia disse loro perché mi tentate portatemi un denaro che io lo veda ed essi glielo portarono ed egli disse loro di chi è questa effigie e questa iscrizione essi gli dissero di Cesare allora Gesù disse loro rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio ed essi si meravigliarono di lui poi vennero a lui dei sadducei i quali dicono che non vè risurrezione e gli domandarono maestro Mosè ci lasciò scritto che se il fratello di uno muore e lascia moglie senza figlioli il fratello ne prenda la moglie e susciti progenie a suo fratello ora verranno sette fratelli il primo prese moglie e morendo non lasciò progenie e il secondo la prese e morì senza lasciare progenie così il terzo e i sette non lasciarono progenie e infine dopo tutti morì anche la donna nella risurrezione quando saranno risuscitati di chi di loro sarà ella la moglie poiché tutti i sette l'hanno avuta per moglie Gesù disse loro non errate voi per questo che non conoscete le scritture né la potenza di Dio poiché quando gli uomini risuscitano dai morti né prendono né danno moglie ma sono come angeli nei cieli quanto poi ai morti e alla loro risurrezione non avete voi letto nel libro di Mosè nel passo del pruno come Dio gli parlò dicendo io sono l'iddio di Abramo l'iddio di Isacco l'iddio di Giacobbe egli non è un Dio di morti ma di viventi voi errate grandemente ora uno degli scribi che li aveva uditi discutere visto che egli aveva loro ben risposto si accostò e gli domandò qual è il comandamento primo fra tutti e Gesù rispose il primo è ascolta Israele il Signore il Dio nostro è l'unico Signore ama dunque il Signore il Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua e con tutta la forza tua il secondo è questo ama il tuo prossimo come te stesso non ve' alcun altro comandamento maggiore di questo e lo scriba gli disse maestro ben hai detto secondo verità che ve' un Dio solo e che fuori di Lui non ve' ne' alcun altro e che amarlo con tutto il cuore con tutto l'intelletto e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso è assai più che tutti gli olocausti e i sacrifici e Gesù vedendo che egli aveva risposto avvedutamente gli disse tu non sei lontano dal regno di Dio e nessuno ardiva più interrogarlo e Gesù insegnando nel Tempio prese a dire come dicono gli scribi che il Cristo è figliuolo di Davide Davide stesso ha detto per lo Spirito Santo il Signore ha detto al mio Signore siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi Davide stesso lo chiama Signore e onde viene che egli è suo figliuolo e la massa del popolo lo ascoltava con piacere e diceva nel suo insegnamento guardatevi dagli scribi i quali amano passeggiare in lunghe vesti ed essere salutati nelle piazze ed avere i primi seggi nelle sinagoge e i primi posti nei conviti essi che divorano le case delle vedove e fanno per apparenza lunghe orazioni costoro riceveranno una maggiore condanna e postosi a sedere di rimpetto alla cassa delle offerte stava guardando come la gente gettava denaro nella cassa e molti ricchi ne gettavano assai e venuta una povera vedova vi gettò due spiccioli che fanno un quarto di soldo e Gesù chiamati a sé i suoi discepoli disse loro in verità io vi dico che questa povera vedova ha gettato nella cassa delle offerte più di tutti gli altri poiché tutti hanno gettato del loro superfluo ma costei del suo necessario vi ha gettato tutto ciò che possedeva tutto quanto aveva per vivere capitolo 13 e come egli usciva dal tempio uno dei suoi discepoli gli disse maestro guarda che pietre e che edifici e Gesù gli disse vedi tu questi grandi edifici non sarà lasciata pietra sopra pietra che non sia diroccata poi sedendo egli sul monte degli olivi dirimpetto al tempio pietro e giacomo e giovanni e andrea gli domandarono in disparte dici quando avverranno queste cose e quale sarà il segno del tempo in cui tutte queste cose staranno per compiersi e Gesù prese a dire loro guardate che nessuno vi seduca molti verranno sotto il mio nome dicendo sono io e ne sedurranno molti ora quando utrete guerre e rumori di guerre non vi turbate è necessario che ciò avvenga ma non sarà ancora la fine poiché si leverà nazione contro nazione e regno contro regno vi saranno terremoti in vari luoghi vi saranno carestie questo non sarà che un principio di dolori ora badate a voi stessi vi daranno in mano dei tribunali e sarete battuti nelle sinagoge e sarete fatti comparire davanti a governatori e re per cagione mia affinché ciò serva loro di testimonianza e prima conviene che fra tutte le genti sia predicato l'evangelo e quando vi veneranno per mettervi nelle loro mani non state innanzi in sollecitudine di ciò che avrete a dire ma dite quello che vi sarà dato in quell'ora perché non siete voi che parlate ma lo spirito santo e il fratello darà il fratello alla morte e il padre il figliuolo e i figliuoli si leveranno contro i genitori e li faranno morire e sarete odiati da tutti a cagione del mio nome ma chi avrà sostenuto sino alla fine sarà salvato quando poi avrete veduta l'abominazione della desolazione posta là dove non si conviene chi legge pongavimente allora quelli che saranno nella giudea fuggano ai monti e chi sarà sulla terrazza non scenda e non entri in casa sua per toglierne cosa alcuna e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste ora guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni e pregate che ciò non avvenga d'inverno poiché quelli saranno giorni di tale tribolazione che non vestata l'uguale dal principio del mondo che Dio ha creato fino ad ora né mai più vi sarà e se il Signore non avesse abbreviato quei giorni nessuno scamperebbe ma a cagione dei suoi propri eletti egli ha abbreviato quei giorni e e allora se alcuno vi dice il Cristo eccolo qui eccolo là non lo credete perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e prodigi per sedurre se fosse possibile anche gli eletti ma voi state attenti io ho predetta ogni cosa ma in quei giorni dopo quella tribolazione il sole si oscurerà e la luna non darà il suo splendore e le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno scrollate ed allora si vedrà il figliuolo dell'uomo venire sulle nuvole con grande potenza e gloria ed egli allora manderà gli angeli e raccoglierà i suoi eletti dai quattro venti dall'estremo della terra all'estremo del cielo ora imparate dal fico questa similitudine quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie voi sapete che l'estate è vicina così anche voi quando vedrete avvenire queste cose sappiate che egli è vicino alle porte in verità io vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute il cielo e la terra passeranno ma le mie parole non passeranno ma quant'è a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa neppure gli angeli nel cielo né il figliuolo ma solo il padre state in guardia vegliate poiché non sapete quando sarà quel tempo egli è come se un uomo andando in viaggio lasciasse la sua casa e ne desse la potestà ai suoi servitori a ciascuno il compito suo e al portinaio comandasse di vegliare vegliate dunque perché non sapete quando viene il padrone di casa se a sera o a mezzanotte o al cantar del gallo o la mattina che talora venendo egli all'improvviso non vi trovi addormentati ora quello che dico a voi lo dico a tutti vegliate capitolo 14 ora due giorni dopo era la pasqua e gli azimi e i capi sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di pigliare Gesù con inganno ed ucciderlo perché dicevano non lo facciamo durante la festa che talora non vi sia qualche tumulto del popolo ed essendo egli in Betania nella casa di Simone il lebroso mentre era a tavola venne una donna che aveva un alabastro d'olio odorifero di nardo schietto di grande prezzo e rotto l'alabastro glielo versò sul capo e alcuni sdegnatisi dicevano fra loro perché se fatta questa perdita dell'olio questo olio si sarebbe potuto vendere più di trecento denari e darli ai poveri e fremevano contro a lei ma Gesù disse lasciatela stare perché le date noia ella ha fatto un'azione buona in verso me poiché i poveri li avete sempre con voi e quando vogliate potete fare loro del bene ma me non mi avete sempre ella ha fatto ciò che per lei si poteva ha anticipato d'ungere il mio corpo per la sepoltura e in vero io vi dico che per tutto il mondo dovunque sarà predicato l'Evangelo anche quello che Costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei e Giuda Iscariot uno dei dodici andò dai capi sacerdoti per darglielo nelle mani ed essi uditolo si rallegrarono e promisero di dargli del denaro ed egli cercava il modo opportuno di tradirlo e il primo giorno degli azimi quando si sacrificava la pasqua i suoi discepoli gli dissero dove vuoi che andiamo ad apparecchiarti da mangiare la pasqua ed egli mandò due dei suoi discepoli e disse loro andate nella città e vi verrà incontro un uomo che porterà una brocca d'acqua seguitelo e dove sarà entrato dite al padrone di casa il maestro dice dov'è la mia stanza da mangiarvi la pasqua coi miei discepoli ed egli vi mostrerà di sopra una grande sala ammobiliata e pronta qui vi apparecchiate per noi e i discepoli andarono e giunsero nella città e trovarono come egli aveva loro detto e apparecchiarono la pasqua e quando fu sera gesù venne coi dodici e mentre erano a tavola e mangiavano gesù disse in verità io vi dico che uno di voi il quale mangia con me mi tradirà essi cominciarono ad attristarsi e a dirgli ad uno ad uno sono io esso ed egli disse loro è uno dei dodici che intinge con me nel piatto certo il figliuolo dell'uomo se ne va come scritto di lui ma guai a quell'uomo per cui il figliuolo dell'uomo è tradito ben sarebbe per quell'uomo di non essere mai nato e mentre mangiavano Gesù prese del pane e fatta la benedizione lo ruppe e lo diede loro e disse prendete questo è il mio corpo poi preso un calice e rese grazie lo diede loro e tutti ne bevero e disse loro questo è il mio sangue il sangue del patto il quale sparso per molti in verità io vi dico che non verrò più del frutto della vigna fino a quel giorno che lo verrò nuovo nel regno di dio e dopo che ebbero cantato l'inno uscirono per andare al monte degli olivi e Gesù disse loro voi tutti sarete scandalizzati perché scritto io percoterò il pastore e le pecore saranno disperse ma dopo che sarò risuscitato vi precederò in Galilea ma Pietro gli disse quando anche tutti fossero scandalizzati io però non lo sarò e Gesù gli disse in verità io ti dico che tu oggi in questa stessa notte avanti che il gallo abbia cantato due volte mi rinnegherai tre volte ma egli vi più fermamente diceva quantunque mi convenisse morire con te non però ti rinnegherò e lo stesso dicevano pure tutti gli altri poi vennero in un podere detto Gezzemani ed egli disse ai suoi discepoli sedete qui finché io abbia pregato e prese con sé Pietro e Giacomo e Giovanni e cominciò ad essere spaventato ed angosciato e disse loro l'anima mia è oppressa da tristezza mortale rimanete qui e vegliate e andato un poco innanzi si gettò a terra e pregava che se fosse possibile quell'ora passasse oltre da lui e diceva abba padre ogni cosa ti è possibile allontana da me questo calice ma pure non quello che io voglio ma quello che tu vuoi e venne e li trovò che dormivano e disse a Pietro Simone dormi tu non sei stato capace di vegliare un'ora sola vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione bene lo spirito pronto ma la carne è debole e di nuovo andò e pregò dicendo le medesime parole e tornato di nuovo li trovò che dormivano perché gli occhi loro erano aggravati e non sapevano che rispondergli e venne la terza volta e disse loro dormite pure ormai e riposatevi basta l'ora è venuta ecco il figliuolo dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori levatevi andiamo ecco colui che mi tradisce è vicino e in quell'istante mentre egli parlava ancora arrivò giuda l'uno dei dodici e colui una grande turba con spade e bastoni da parte dei capi sacerdoti degli scrivi e degli anziani ora colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale dicendo colui che bacerò è adesso pigliatelo e menatelo via sicuramente e come fu giunto subito si accostò a lui e disse maestro e lo baciò allora quelli gli misero le mani addosso e lo presero ma uno di coloro che erano quivi presenti tratta la spada percosse il servitore del sommo sacerdote e gli spiccò l'orecchio e Gesù rivolto a loro disse voi siete usciti con spade e bastoni come contro a un ladrone per pigliarmi ogni giorno ero fra voi insegnando nel tempio e voi non mi avete preso ma ciò è avvenuto affinché le scritture fossero adempiute e tutti lasciatolo se ne fuggirono e un certo giovane lo seguiva avvolto in un pannolino sul nudo e lo presero ma egli lasciando andare il pannolino se ne fuggì in nudo e menarono Gesù al sommo sacerdote e sadunarono tutti i capi sacerdoti e gli anziani e gli scribi e Pietro lo aveva seguito da lungi fin dentro la corte del sommo sacerdote dove stava a sedere con le guardie e si scaldava al fuoco ora i capi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche testimonianza contro a Gesù per farlo morire e non ne trovavano alcuna poiché molti deponevano il falso contro lui ma le testimonianze non erano concordi ed alcuni levatesi testimoniarono falsamente contro lui dicendo noi l'abbiamo udito che diceva io disfarò questo tempio fatto di mano d'uomo ed in tre giorni ne riedificherò un altro che non sarà fatto di mano d'uomo ma neppure così la loro testimonianza era concorde allora il sommo sacerdote levatosi in pie quivi in mezzo domandò a Gesù non rispondi tu nulla che testimoniano costoro contro a te ma egli tacque e non rispose nulla da capo il sommo sacerdote lo interrogò gli disse sei tu il Cristo il figlio del benedetto e Gesù disse sì lo sono e vedrete il figliuolo dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo e il sommo sacerdote stracciatesi le vesti disse che abbiamo noi più bisogno di testimoni voi avete udita la bestemmia che ve ne pare e tutti lo condannarono come reo di morte ed alcuni presero a sputarli addosso e a velarli a faccia e a darli dei pugni a dirgli indovina profeta e le guardie presero a schiaffeggiarlo ed essendo Pietro giù nella corte venne una delle serve del sommo sacerdote e veduto Pietro che si scaldava lo riguardò in viso e disse anche tu eri con Gesù Nazareno ma egli lo negò dicendo io non so ne capisco quello che tu dica ed uscì fuori nell'antiporto e il gallo cantò e la serva vedutolo cominciò di nuovo a dire a quelli che erano qui vi presenti costui è di quelli ma egli da capo lo negò e di nuovo di lì a poco quelli che erano qui vi dicevano a Pietro per certo tu sei di quelli perché poi sei Galileo ma egli prese ad imprecare e a giurare non conosco quell'uomo che voi dite e subito per la seconda volta il gallo cantò e Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva ha detto avanti che il gallo abbia cantato due volte tu mi rinnegherai tre volte e a questo pensiero si mise a piangere capitolo 15 e subito la mattina i capi sacerdoti con gli anziani e gli scrivi e tutto il sinedrio tenuto consiglio legarono Gesù e lo menaro via e lo misero in mano di Pilato e Pilato gli domandò sei tu il re dei giudei ed egli rispondendo gli disse si lo sono e i capi sacerdoti l'accusavano di molte cose e Pilato da capo lo interrogò dicendo non rispondi nulla vedi di quante cose ti accusano ma Gesù non rispose più nulla tal che Pilato se ne meravigliava ora ogni festa di Pasqua egli liberava loro un carcerato qualunque chiedessero c'era allora in prigione un tale chiamato Barabba insieme a dei sediziosi i quali nella sedizione avevano commesso omicidio e la moltitudine venuta su cominciò a domandare che gli facesse come sempre aveva loro fatto e Pilato rispose loro volete che io vi liberi il re dei giudei poiché capiva bene che i capi sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia ma i capi sacerdoti incitarono la moltitudine a chiedere che piuttosto liberasse loro Barabba e Pilato da capo replicando diceva loro che volete dunque che io faccia di colui che voi chiamate il re dei giudei ed essi di nuovo gridarono crocifiggilo e Pilato diceva loro ma pure che male ha egli fatto ma essi gridarono più forte che mai crocifiggilo e Pilato volendo soddisfare la moltitudine liberò loro Barabba e consegnò Gesù dopo averlo flagellato per essere crocifisso allora i soldati lo menarono dentro la corte che è il pretorio e radunarono tutta la corte e lo vestirono di porpora e intrecciata una corona di spine gliela misero intorno al capo e cominciarono a salutarlo salve re dei giudei e gli percotevano il capo con una canna e gli sputavano addosso e postisi in ginocchioni si prostravano dinanzi a lui e dopo che l'ebbero schernito lo spogliarono della porpora e lo rivestirono dei suoi propri vestimenti e lo menarono fuori per crocifiggerlo e costrinsero a portare la croce di lui un certo Simon Cireneo il padre di Alessandro e di Rufo il quale passava di là tornando dai campi e menarono Gesù al luogo detto Golgota il che interpretrato vuol dire luogo del teschio e gli offersero da bere del vino mescolato con mirra ma non ne prese poi lo crocifissero e si spartirono i suoi vestimenti tirandoli a sorte per sapere quel che ne toccherebbe a ciascuno era l'ora terza quando lo crocifissero e l'iscrizione indicante il motivo della condanna diceva il re dei giudei e con lui crocifissero due ladroni uno alla sua destra e l'altro alla sua sinistra e si adempiè la scrittura che dice egli è stato annoverato fra gli iniqui e quelli che passavano lì presso lo ingiuriavano scotendo il capo e dicendo e tu che disfai il tempio e lo riedifichi in tre giorni salva te stesso e scendi giù di croce parimente anche i capi sacerdoti con gli scrivi beffandosi dicevano l'uno all'altro ha salvato altri e non può salvare se stesso il Cristo il re di israele scenda ora giù di croce affinché vediamo e crediamo anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano e venuta l'ora sesta si fecero tenebre per tutto il paese fino all'ora nona ed all'ora nona Gesù gridò con grande voce Eloi Eloi lama sabachtani il che interpretato vuol dire Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato ed alcuni degli astanti udito ciò dicevano ecco chiama Elia e uno di loro corse e insuppata d'aceto una spugna e postala in cima ad una canna gli dieda bene dicendo aspettate vediamo se Elia viene a trarlo giù e Gesù gettato un grande grido rende lo spirito e la cortina del tempio si squarciò in due da cima a fondo e il centurione che era quivi presente di rimpetto a Gesù avendolo veduto spirare in quel modo disse veramente quest'uomo era figliuolo di Dio ora verano anche delle donne che guardavano da lontano fra le quali era Maria Maddalena e Maria madre di Giacomo il piccolo e di Giosè e Salome le quali quando egli era in Galilea lo seguivano e lo servivano e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme ed essendo già sera poiché era preparazione cioè la vigilia del sabato venne Giuseppe d'Arimatea consigliere onorato il quale aspettava anche egli il regno di Dio e preso ardire si presentò a Pilato e domandò il corpo di Gesù Pilato si meravigliò che egli fosse già morto e chiamato a sé il centurione gli domandò se era morto da molto tempo e saputolo dal centurione donò il corpo a Giuseppe e questi comprato un pannolino e tratto Gesù giù di croce lo avvolse nel panno e lo pose in una tomba scavata nella roccia e rotolò una pietra contro l'apertura del sepolcro e Maria Maddalena e Maria madre di Giuse stavano guardando dove veniva deposto capitolo sedici e passato il sabato Maria Maddalena e Maria madre di Giacomo e di Salome comprarono degli aromi per andare a imbalsamare Gesù e la mattina del primo giorno della settimana molto per tempo vennero al sepolcro sul levare del sole e dicevano fra loro chi ci rotolerà la pietra dell'apertura del sepolcro e alzati gli occhi videro che la pietra era stata rotolata ed era pur molto grande ed essendo entrate nel sepolcro videro un giovinetto seduto a destra vestito d'una veste bianca e furono spaventate ma egli disse loro non vi spaventate voi cercate Gesù in Nazareno che è stato crocifisso egli è risuscitato non è qui ecco il luogo dove l'avevano posto ma andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro che gli vi precede in Galilea qui vi lo vedrete come va detto ed esse uscite fuggirono via dal sepolcro perché erano prese da tremito e da stufore e non dissero nulla ad alcuno perché avevano paura ora Gesù essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana apparve prima a Maria Maddalena dalla quale aveva cacciato sette demoni costei andò ad annunziarlo a coloro che erano stati con lui i quali facevano cordoglio e piangevano ed essi udito che egli viveva ed era stato veduto da lei non lo credettero e dopo questo apparve in altra forma a due di loro che erano in cammino per andare ai campi e questi andarono ad annunziarlo agli altri ma neppure a quelli credettero di poi apparve agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore perché non avevano creduto a quelli che l'avevano veduto risuscitato e disse loro andate per tutto il mondo e predicate l'evangelo ad ogni creatura chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato ma chi non avrà creduto sarà condannato ora questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel nome mio caceranno demoni parleranno in lingue nuove prenderanno in mano dei serpenti e seppure bevessero alcunché di mortifero non ne avranno alcun male imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno il signore gesù dunque dopo avere loro parlato fu assunto nel cielo e sedette alla destra di dio e quelli se ne andarono a predicare dappertutto operando il signore con essi e confermando la parola coi segni che l'accompagnavano lo l'accompagnavano è in l'accompagnavano si non Grazie a tutti